La bambina è una bambina di nome Felicia, che Felicia non era poco. Lei voleva fare la ballerina, ma non c'era posto nella squadra di ballo. Lei era anche povera. Una signora le regalò delle scarpette di danza e lei iniziò a ballare. Ballò talmente benissimo che ti vengono a volta. Facciamo ballare Felicia con Arduino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.